Palle, da Monte, Fischer, Falzerano, il lancio in avanti per Fischer, colpo di testa nel cerchio di centrocampo, Castro viene anticipato però Saleiro, dunque Falzerano il tacco, sale buono, il contrasto lo favorisce, riesce a tenere il pallone in campo, Fischer stoppa a seguire. La palla battuta centralmente, fatto di Falzerano, giocatore della Salernità, una palla però troppo lunga, la rimessa dal fondo per il Portogallo, adesso però è una nazionale che piano piano sembra ritrovare qualche geometria, rinvia Miguel Vitor che nel secondo tempo, anche in questo inizio di ripresa. Problemi, ci sono problemi appunto per Buono, dunque il numero 13 che è zottica. Attenzione perché Guadagnini aveva alzato la bandina e poi l'ha rimessa giù e quindi azione regolare con l'uscita difficoltosa di Riccardo Battista. La palla dietro per Buono che mette così, riesce a mantenere il pallone, Falzerano spostato tutto a sinistra in signe, Falzerano, buona l'azione per il tentativo di Manzo, la palla dietro, al volo Falzerano! Che peccato, non si è un po' scoperto. Di fatto è la prima grande occasione costruita dalla nostra nazionale. La velocità, l'agilità dei nostri attaccanti che con Falzerano e in signe possono sicuramente mettere in difficoltà la difesa portoghese. Sì, senza dubbio la partita, la gara la stanno facendo i portoghesi, noi dobbiamo solamente colpire in contropiede, in velocità, in agilità, colpire e tenere sempre... Italia però che è più viva in questo scorcio di gara, Falzerano pronto con il destro, a giro, attenzione! Non riesce Signorini a intervenire, mani tra i capelli, è riuscito a vuoto Batista, si continua a giocare il rinvio della difesa del Portogallo, in signe... Destro! ...e' recuperato però l'Italia, Falzerano, buono il suo movimento, il tocco con Fischer, dai e vai che si chiude con un po' di fortuna, Falzerano, la palla... ...e' la posizione centrale, Damonte allarga per Falzerano, mantiene il pallone in campo, Falzerano, vediamo se c'è il tempo per l'azione ultima dell'Italia, Falzerano, il cross! Fischer, la palla giocata a destra per Falzerano, dentro Fischer, Falzerano, il cross! ...con il petto e rimbalzata sopra la testa, veramente una grande occasione! Falzerano, dopo il tocco di Damonte, Falzerano prova l'uno contro uno, su Faria, giocatore Falzerano che però ha regalato un paio di spunti tecnici interessanti. Loro sono bravi di testa, giocatori veramente con un fisico superiore, molto alti, questa poteva essere una palla molto... ...attenzione! Falzerano dentro per Cocco, la palla bassa, e poi arriva Damonte! Fischer arriva Damonte, palla a destra per Falzerano, scivola, riesce a mantenere il pallone, il cross per Insigne! ... ... ... ...